FASHION CHANNEL Sì, è un brand emergente che ho creato da qualche anno, design clou della mia collezione è l'occhio, come vedete qua dietro, un simbolo universale che tutti vedono come un terzo occhio, un portafortuna, qualcosa da mettere, una cosa esteticamente bella, l'ho disegnato io, in tutta la varia gamma di colori riesce a dare sempre un tocco di stile a qualsiasi look. Il 90% della collezione è in oro e diamanti, oro 18 carati, made in Italy, diamanti, pietre preziosi, smeraldi, zafferi, rubini. Poi abbiamo fatto una linea un po' più aspirational, che ha un price point un po' più basso, che è in argento o argento dorato, si chiama Fortuna, la Fortuna Collection, che piace molto perché è in argento e smalto. Io sono sempre attratta dal sole e dal mare e dall'estate, quest'anno propongo i pompon con turchesi, pietre dure, coralli, agate, tutte queste pietre che comunque danno grinta e forza al stile di una donna.